Buongiorno a tutti, sono Marina Marinovic, sono titolare della Catera di Tossicologia presso l'Università degli Studi di Milano e mi occupo da sempre, oltre che dei meccanismi appunto alla base della tossicità delle sostanze chimiche e non, anche di valutazione del rischio. Il mio ruolo diciamo all'interno del Cosmast è appunto tenere dei seminari sulla applicazione del dossier che accompagna ogni prodotto cosmetico e in particolare sulle regole, le procedure per la valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico stesso. Queste procedure appunto si basano non solo sulla tossicologia come disciplina ma anche ovviamente con una integrazione di quelle che sono le norme a livello europeo di tipo regolatorio.